In bocca al lupo doveroso al Mondragone e al tecnico Mr. Carranante, oggi primo giorno di allenamento, ci troviamo qui a Celore, la squadra si allena fino al 30 agosto. Mr. Allora, sensazioni, che gruppo è nato in casa Mondragone? Beh, siamo in crescita, stiamo vedendo un po' di organizzarci un po' come io, siamo troppi, quindi c'è anche ragazzi della Juniores, quindi adesso vediamo, iniziamo, dobbiamo lavorare, dobbiamo concentrarsi un po' su quello che poi sarà un organico definitivo per il Mondragone. Inizialmente non possiamo dire niente, diciamo solo che noi dobbiamo lavorare, cercare di fare qualcosa di importante quest'anno. Non mi accontento, io sono abituato a vincere, quindi voglio vincere, poi chiaramente il campo dirà se siamo bravi o meno, però l'obiettivo mio è quello sempre di vincere in qualsiasi partita. Primo giorno di ambizioni, di speranze per il nuovo Corso Granata, naturalmente con l'ausilio che dall'aiuto di tutte le forze si possono costruire le basi per un Mondragone positivo in questa stagione 2017-2018. Da sempre la società punta sulla valorizzazione dei giovani, che è un po' pure il tuo credo tattico, perché è bello valorizzare ad occhiare il ragazzino della Juniores e lanciarlo subito in prima squadra. Ricordiamo che questa eccellenza è un campionato difficile, tantissime le squadre che hanno animato il mercato, ancora presto per parlarne. Però a tuo avviso il Mondragone può fare la sua bella figura in questo girone? Beh, diciamo che quest'anno il campionato sembra più una serie di due, perché ci sono squadre importanti, ci sono grandi piazze che hanno fatto calcio, per cui noi non siamo da meno, ripeto, io sono ambizioso, non mi accontento di niente, per cui dobbiamo lavorare, cercare di fare il massimo delle nostre possibilità e forse qualcosa in più, perché perdere a me non piace, quindi ci rimango male quando perdo, anche se gioco bene, ma non mi piace perdere, per cui quest'anno è un campionato molto difficile. Abbiamo creato una buona squadra, però adesso bisogna lavorare e cercare nel miglior modo possibile di portarci eventualmente in una zona di classifica consone al Mondragone. Grazie a questa prima intervista, un in bocca al lupo da parte nostro doveroso, il tuo messaggio saluto ai tifosi e tutti gli sportivi mondragonesi. Io l'anno scorso sono venuto a vedere 5-6 partite, ho sempre trovato la tribuna piena, io spero che quest'anno continuino a venire, che continuino a incoraggiarci, perché noi, comunque una squadra giovane ha bisogno di incoraggiamento e noi daremo il massimo, come ripeto, siamo abituati, come il mio staff, di fare grandi cose, speriamo di farli anche a Mondragone. A bocca al lupo. Grazie. Grazie.